Borutta, San Pietro di Sorres, interno. L'interno del Tempio è diviso in tre navate da otto grandi pilastri cruciformi caratterizzati da fasce alternate di pietra bianca e nera su cui si innestano ampi arcate a tutto sesto. Nella navata sinistra è ospitata la statua del XV secolo venerata con il titolo di Nostra Signora di Sorres. Notevole il pulpito Marmorio in stile gotico. 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 Grazie a tutti.